Locadoro. C'era un uomo che aveva tre figli. Il minore, chiamato Il Grullo, era disprezzato, dileggiato e messo da parte in ogni occasione. Un giorno il maggiore volle andare nel bosco a far legna e prima di uscire la madre gli diede una bella frittata e una bottiglia di vino perché non patisse la fame e la sete. Quando giunse nel bosco incontrò un vecchio mino grigio che lo salutò e disse dammi un pezzo della tua frittata e fammi bere un sorso del tuo vino, ho tanta fame e tanta sete. Ma il figlio avveduto rispose se ti do la mia frittata e il mio vino a me non resta più nulla. Vattene per la tua strada. E se ne andò. Incominciò a tagliare un albero ma ben presto sbagliò il colpo ferendosi il braccio con la scure e dovette andare a casa a farsi bendare. In realtà si trattava del castigo dell'omino grigio. Poi toccò al secondo figlio andare nel bosco e la madre diede anche a lui una frittata e una bottiglia di vino. Anche egli si imbattè nel vecchio mino grigio che gli chiese un pezzo di frittata e un sorso di vino. Ma anche il secondo figlio parlò ragionevolmente ciò che do a te manca a me. Vattene per la tua strada. E proseguì. L'omino non fece tardare il castigo. Dopo aver dato due o tre colpi di scure a un albero il giovane si ferì la gamba e dovettero trasportarlo a casa. Allora il grullo disse padre voglio andare a far legna anch'io. Il padre rispose i tuoi fratelli si sono fatti male. Tu lascia perdere tanto non ne capisci niente. Ma il grullo lo pregò tanto che il padre finì col dirgli va pure imparerai a tue spese. La madre gli diede una focaccia cotta nella cenere e una bottiglia di birra acida. Quando arrivò nel bosco incontrò anche egli il vecchio mino grigio che lo salutò e gli disse dammi un pezzo della tua focaccia e un sorso della tua bottiglia. Ho tanta fame e tanta sete. Il grullo rispose ho soltanto una focaccia cotta nella cenere e birra acida. Se ti va bene possiamo sederci a mangiare. Si sedettero e quando il grullo tirò fuori la sua focaccia trovò una bella frittata e la birra acida era del buon vino. Mangiarono e bevero poi l'omino disse poiché è buon cuore e dividi volentieri con altri ciò che è tuo voglio renderti fortunato. Là c'è un vecchio albero abbattilo e troverai qualcosa nelle radici. Ciò detto si congedò da lui. Il grullo andò ad abbattere l'albero e quando esso cadde trovò nelle radici un'oca dalle piume d'oro puro. La tirò fuori la prese con sé e andò a pernottare in una locanda. Ma l'oste aveva tre figlie che vedendo l'oca erano curiosa di sapere di che strano uccello si trattasse e avrebbero preso volentieri una delle sue piume d'oro. La maggiore pensò devo assolutamente avere una piuma. Aspettò che il grullo fosse uscito e afferrò l'oca per l'ala ma le dita vi rimasero appiccicate. Poco dopo arrivò la seconda e non aveva altro pensiero che prendersi anche lei una piuma. Si avvicinò ma non appena ebbe sfiorato la sorella vi rimase attaccata. Infine venne anche la terza a reclamare una piuma. Allora le altre gridarono sta lontana per l'amor di dio sta lontana ma ella non capiva il perché e pensò se ci sono loro posso esserci anch'io. Si avvicinò di corsa ma non appena ebbe sfiorato sua sorella le rimase attaccata. Così dovettero trascorrere la notte con l'oca. Il mattino dopo il grullo prese in braccio l'oca e se ne andò senza curarsi affatto delle tre fanciulle. Esse erano cosette a corrergli sempre dietro a destra e a sinistra dove lo portavano le gambe. In mezzo ai campi incontrarono il parroco che vedendo quella processione disse vergognatevi razza di scostumate vi pare decente correre per i campi dietro a quel ragazzo? Ciò detto afferrò la più giovane per la mano perché si fermasse ma non appena l'ebbe sfiorata rimase attaccato anche lui e dovette correre dietro a loro. Poco dopo giunse il sagrestano e vide il parroco che stava tallonando tre ragazze. Meravigliato gridò. Ehi signor parroco dove andate così di fretta? Oggi abbiamo ancora un battesimo. Lo rincorse, lo afferrò per la manica e rimase attaccato anche lui. Mentre cinque trottavano così uno dietro l'altro dal campo giunsero due contadini con le loro zappe e il parroco li chiamò pregandoli di venire a liberarli. Ma avevano appena assiurato il sagrestano che rimasero attaccati anche loro così adesso erano in sette a correre dietro al grullo con l'oca. Poi egli giunse in una città dove regnava un re che aveva una figlia tanto seria che nessuno riusciva a farla ridere. Perciò egli aveva stabilito che l'avrebbe avuta in esposa solo colui che vi fosse riuscito. Il grullo quando lo seppe si presentò con l'oca e tutto il seguito alla principessa e quando ella vide i sette che correvano l'uno dietro l'altro incominciò a ridere forte e non la smetteva più. Allora il grullo pretese che gliela si desse in moglie ma il re fece un mucchio di obiezioni e disse che prima doveva portargli un uomo che fosse in grado di bere tutto il vino di una cantina. Il grullo pensò che l'omino grigio avrebbe potuto aiutarlo. Andò nel bosco e là dove aveva abbattuto l'albero vide un uomo seduto con la faccia tutta triste. Il grullo domandò che cosa lo dolorasse tanto. Ah rispose quello ho tanta sete e non ho da bere a sufficienza. Ho sì vuotato una botte di vino ma cos'è una goccia su di una pietra bollente? Posso aiutarti io disse il grullo. Vieni con me ti disseterai. Lo condusse nella cantina del re e l'uomo si gettò su quelle grosse botti e beve. Beve tanto che gli dolevano i fianchi. Prima che fosse trascorsa la giornata aveva vuotato la cantina. Il grullo chiese nuovamente alla fanciulla inisposa ma il re si seccò che un volgare ragazzotto che tutti chiamavano il grullo li portasse via la figlia e pose altre condizioni. Doveva portargli un uomo che fosse in grado di mangiare una montagna di pane. Il grullo si recò nuovamente nel bosco e dove si trovava l'albero trovò un uomo che si stringeva la vita con una cinghia e diceva con viso burbero ho mangiato un'intera infornata di panini ma non può certo bastare con la fame che mi ritrovo. Mi sento lo stomaco vuoto e non mi resta che stringermi la vita se non voglio morire di fame. Udendo queste parole il grullo disse tutto contento alzati e vieni con me ti sazierai. Lo condusse a corte dove il re aveva ordinato di raccogliere tutta la farina del regno e di cuocere un'enorme montagna di pane ma l'uomo del bosco vi si mise davanti incominciò a mangiare e in un giorno e in una notte l'intera montagna era sparita. Il grullo chiese nuovamente la sposa ma il re cercò un'altra scusa e gli disse di procurargli una nave che andasse per mare e per terra. Se fosse riuscito in questa impresa avrebbe avuto subito la fanciulla in esposa. Il grullo andò ancora una volta nel bosco e ci trovò il vecchio mino grigio al quale aveva dato la sua focaccia e che gli disse ho bevuto e mangiato per te e ora ti darò anche la nave. Faccio tutto questo perché sei stato pietoso con me. Gli diede la nave che andava per mare e per terra e quando il re la vide dovette accordargli la figlia. Furono celebrate le nozze. Il grullo ereditò poi il regno e visse a lungo felice con la sua sposa.